Imparate a distinguere l'urgente E' un'esperienza dalla priorità, perché oggi diamo tantissima importanza alle urgenze, siamo sopravvatti dalle urgenze, però ci dimentichiamo della priorità. Oggi, ora, Cristo vi benedice e vi rafforza con il Sacramento Nuziale, perché impariate ad amarvi l'un l'altro con amore fedele ed inesauribile e assumiate responsabilmente i doveri e le gioie del matrimonio. Grazie a tutti. Oggi, la mia priorità e per il resto della mia vita è sicuramente idegna e per questo metterò da parte tutte le urgenze per la priorità più importante. Grazie. 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 Grazie.